amici di extreme hardware benvenuti a questa nuova video recensione quest'oggi vi parliamo di un prodotto che è piuttosto particolare per il nostro sito infatti ci occuperemo di una action cam a marchio come vedete dalla scatola zeblades zeblades è un brand proveniente dalla cina che è stato creato appositamente per esportare in europa alcune action cam che vengono prodotte e commercializzate già da qualche tempo proprio in oriente la scatola è piuttosto anonima come vedete c'è soltanto il logo zeblades sul frontale se giriamo la confezione troviamo alcune caratteristiche del prodotto in particolare la resistenza all'acqua e alle immersioni questa action cam infatti è resistente sino a 60 metri di profondità la presenza di vari accessori che andremo a vedere più avanti un angolo di visuale piuttosto elevato si parla infatti di 170 gradi anche se al lato pratico l'angolo di visuale è leggermente inferiore la risoluzione di registrazione dei video che di 1080p quindi siamo in full hd 1080p 30 fps mentre la risoluzione 720p arriva anche a 60 fps dopodiché ci sono alcune tecnologie come la pure video che permette di avere un'immagine più più nitida il codec attraverso il quale è registrato il filmato sulla micro sd che inseriamo nella nella action cam che è l'h2 sui 4 infatti tutti i filmati vengono salvati in formato move e ovviamente la funzionalità wifi questo vuol dire che possiamo collegare la action cam a un qualsiasi smartphone android o ios e controllare in maniera remota la telecamera apriamo la confezione e vi facciamo vedere il contenuto come vedete il logo the blades è ripreso anche da questa valigetta in tessuto utilissima per trasportare la cam e tutti i suoi accessori vediamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è all'interno della scatola da una parte abbiamo la action cam insieme all'alimentatore da parete un supporto compatibile ovviamente gopro e un controllo remoto fatto in maniera simile ad un orologio e nella parte superiore dietro questa retina abbiamo il manuale con tutti gli accessori partiamo appunto dagli accessori per dare poi un'occhiata alla cam vera e propria come vi ho detto c'è l'alimentatore da parete che ovviamente ha la porta per il gavetto usb abbiamo un supporto che è compatibile con tutti gli accessori gopro abbiamo questa sorta di orologio che in realtà è un comando remoto che funziona a 2,4 ghz e ci permette di avviare la registrazione o fermarla ci permette anche di scattare delle fotografie nella parte superiore troviamo come al solito il manuale di istruzioni che è scritto in inglese c'è il cavetto usb micro usb per caricare la cam c'è un supporto per attaccare la cam al manubrio di una bicicletta di una moto o a qualsiasi altro oggetto di sezione approssimativamente cilindrica vedete possiamo svitare queste viti di regolazione in modo da aumentare il diametro ovviamente possiamo combinare poi questo questo attacco con tutta un'altra serie di accessori anche quelli gopro per esempio in modo da modificare l'angolazione c'è ancora un ulteriore supporto similare a quello visto prima vedete la differenza è sostanzialmente data dal fatto che hanno un'altezza un'altezza diversa per il resto sono estremamente simili anche questi ovviamente compatibili gopro come tutto il resto c'è una una vite poi ci sono due adesivi con con adesivo 3m che servono per applicare per esempio questi attacchi sul sul casco da sci o sul casco della moto abbiamo ancora un supporto da casco fatto da questa cinghietta in in velcro supporto che torna molto utile per esempio nei caschetti da da bici infine abbiamo ancora un paio di accessori che sono un bracket angolare che ci permette di estendere per esempio alcuni attacchi come come quello che abbiamo visto prima e infine un supporto per il cavalletto vedete che ha la filettatura possiamo utilizzarlo con i cavalletti fotografici vi ricordo come ho già detto che tutti gli accessori mostrati sono compatibili gopro quindi potete tranquillamente anche nel caso in cui vogliate estendere gli accessori della vostra della vostra cam comprare accessori originali gopro perché sono tutti compatibili sono compatibili perché la cam è realizzata con una grande attenzione e a questo attacco nella zona nella zona inferiore che appunto identico a quello del case esterno della gopro come potete vedere è una cam particolare diversa rispetto a molte altre perché non ha un case un case esterno e è tutto inglobato all'interno di questo case misto gomma plastica e metallo il frontale infatti è realizzato in metallo con queste quattro viti a vista l'obiettivo anch'esso in metallo ci sono poi nella zona superiore un paio di flash che possono essere attivati sia per segnalare eventuali problemi o pericoli sia per riprendere magari in condizioni di scarsa luce o proprio di notte sul retro abbiamo uno uno schermino con i tasti per controllare la cam nella zona superiore ci sono i due tasti per accendere la cam questo oppure per avviare o stoppare la registrazione oppure scattare delle fotografie il tasto sulla sulla sinistra in questo caso c'è il gancetto in plastica per aprire il case della cam sul lato di destra abbiamo un tappino che riporta le scritte HDMI e USB infatti svitando questo tappo si accede alle due porte che sono quella micro USB per la ricarica e quella micro HDMI per collegare la cam alla televisione il lato sinistro è pulito non c'è nulla nella zona inferiore come vi ho già detto c'è lo snodo per l'apertura del display e c'è l'attacco compatibile appunto con tutti gli accessori della GoPro vi faccio vedere come funziona il meccanismo di apertura bisogna prendere questa questa linguetta e tirarla verso l'alto ecco qua operazione facilissima il display viene ruotato in questo modo qui c'è la batteria qua c'è un piccolo pad che permette di tenere la batteria in posizione questo è il cavetto flat che permette di trasmettere il segnale video sul display non so se lo possiate notare bene in video comunque quando io apro il case in questa maniera il cavetto flat scorre insieme al display in modo da evitare eventuali danneggiamenti o addirittura rotture quindi in questo caso Zeblaze ha prestato veramente un'enorme attenzione alla realizzazione di questo meccanismo la batteria si rimuove in questo modo esattamente come il cellulare qua sotto abbiamo lo slot per inserire la micro sd fino a 32 gigabyte la batteria come vedete è da 3,7 volt e 1050 mAh è rimarchata Zeblaze ma in realtà è una Samsung SLB10A questo vuol dire che potete tranquillamente trovare una batteria di ricambio o comprare batterie supplementari in molti negozi anche qua in Italia non avete bisogno di ordinarla direttamente in Cina o da negozi che spediscono appunto dall'Oriente rimettiamo la batteria e chiudiamo il case in che modo? così poi prendiamo il bracket di plastica facciamo attenzione che si incastri perfettamente dove ci sono questi due piccoli rilievi anch'essi in plastica dopodiché chiudiamo in questa maniera la cam è perfettamente chiusa, estremamente solida a detta del produttore è impermeabile già così a 60 metri anche grazie all'Oring che è applicato in corrispondenza del tappo cioè una piccola guarnizione di gomma che impedisce all'acqua di entrare in ogni caso se fate immersioni a profondità appunto elevate vi consiglio comunque di utilizzare del grasso che è idrorepellente, idrofobico quindi non permette all'acqua di entrare magari spalmate un pochino di grasso intorno all'Oring del tappino e un pochino di grasso intorno alla guarnizione che mantiene la chiusura stagna del case della fotocamera questo è un accorgimento più che altro in teoria non dovrebbe entrare acqua ma meglio essere prudenti per quello che costa la cam si accenna in questo modo, c'è il tasto sulla sinistra basta mantenerlo leggermente premuto eccola qui con il logo The Blades da vicino in modo che possiate vedere meglio intorno al display ci sono i vari tasti per controllare tutte le funzionalità della cam partiamo da sinistra, abbiamo il tasto mod che ci permette di cambiare tra la modalità di ripresa video, la modalità fotocamera e la galleria, ovvero tutto ciò che abbiamo memorizzato sulla nostra micro SD al di sotto del tasto mod purtroppo sono tutti in nero quindi non si vedono benissimo comunque al di sotto del tasto mod c'è il tasto menu che ci permette di accedere appunto al menu per la regolazione delle impostazioni oppure premendo due volte in rapida sequenza alle impostazioni vere e proprie della cam che vedremo più avanti in basso poi c'è il tasto ok sulla destra abbiamo un tastino che ci permette come vedete di accendere o meno i led con la possibilità anche di attivare un lampeggiamento rapido e in basso sulla destra abbiamo i tastini su e giù, destra e sinistra se preferite insomma per muoversi all'interno dei vari menu delle impostazioni andiamo a vedere appunto tutte le varie impostazioni di questa action cam partiamo dalle impostazioni relative alla registrazione video possiamo decidere se registrare a 1080p, 720p, risoluzione W, VGA oppure VGA vi consiglio di mantenere la registrazione a 1080p perché la risoluzione è ottima e i 30 fps sono più che sufficienti per ottenere ottimi risultati dopodiché possiamo impostare una registrazione di tipo ciclico cioè ogni 2 minuti, ogni 5 minuti oppure ogni 10 minuti possiamo modificare l'esposizione dei nostri video l'intervallo va da meno 2 a più 2 mi pare possiamo modificare anche il bilanciamento del bianco mantenendolo su auto oppure adottando appunto le impostazioni che più preferiamo in base alle condizioni ambientali possiamo attivare il rilevamento dei movimenti, dei soggetti che stiamo inquadrando questa è una caratteristica che in realtà secondo me non è indispensabile l'ho sempre mantenuta disattivata poiché non si nota grossa differenza nell'attivarla o meno possiamo infine decidere se attivare oppure no la registrazione dell'audio passiamo al comparto fotografico e vi facciamo vedere anche in questo caso quelle che sono le impostazioni personalizzate abbiamo la possibilità di decidere se impostare un timer o meno per un eventuale autoscatto possiamo impostarlo su foto singola, cioè foto immediata timer a 3 secondi, timer a 10 secondi oppure a 30 secondi possiamo stabilire la dimensione delle nostre fotografie in particolare 12 megapixel, 8 megapixel o 5 megapixel vi ricordo che i valori più elevati, in questo caso 12 e 8 sono realizzati tramite un'interpolazione a livello software dunque non sono megapixel reali, effettivi possiamo decidere anche di impostare la modalità continuato che significa la possibilità di avere vari scatti in rapida sequenza tipicamente 3-4 scatti in rapida sequenza uno dopo l'altro in modo da scegliere poi al termine tramite PC ovviamente il migliore possiamo decidere la qualità dell'immagine ovvero qualità, in questo caso la traduzione italiana non è piuttosto approssimativa qualità forte, cioè qualità ottimale qualità normale oppure qualità economica, cioè risparmio sostanzialmente di memorie sulla nostra schedina SD possiamo impostare anche in questo caso la nitidezza dell'immagine come abbiamo già visto per quanto riguarda le riprese video possiamo regolare anche il bilanciamento del bianco la temperatura del colore tramite colore bianco-nero oppure effetto seppie possiamo modificare l'ISO dell'immagine tra i valori automatici poi abbiamo anche 100, 200 o 400 possiamo modificare anche in questo caso l'esposizione tra meno 2 e più 2 e infine possiamo attivare la visualizzazione rapida cioè dopo aver scattato la foto ci viene mostrata la foto che abbiamo appunto scattato per qualche secondo in modo da permetterci già di valutare se cancellarla oppure tenerla nella nostra memoria micro SD per quanto riguarda invece le impostazioni vere e proprie della cam ne abbiamo davvero parecchie, ben 5 pagine di impostazioni ci sono quelle relative al wifi come vi ho detto possiamo collegare e vi spiegherò dopo come funziona l'action cam ad un cellulare in modo da utilizzarla in remoto possiamo settare sia il nome della rete wifi che la password possiamo impostare la rotazione dell'immagine sostanzialmente l'immagine mostrata sul display viene ruotata di 180 gradi utile nel caso in cui si appenda appunto al contrario in questo modo la cam possiamo attivare o meno la stabilizzazione dei video anche in questo caso come per il motion detection non è una funzionalità indispensabile nel senso che attivata o meno non si nota grossa differenza possiamo decidere di attivare o no lo spegnimento automatico dell'LCD ovvero del display dopo 30 secondi o un minuto o anche mantenere disattivato lo spegnimento automatico nel mio caso ho sempre tenuto lo spegnimento automatico del display possiamo attivare o meno la funzionalità del telecomando cioè di questo piccolo, neanche piccolo in realtà, orologetto che ci permette di accoppiare appunto l'orologio con la cam oppure di tramite questo tasto avviare o fermare la registrazione abbiamo poi alcune altre voci quelle relativi all'impostazione della data e dell'ora la stampa della data sostanzialmente possiamo decidere se visualizzare o meno la data sul video spegnimento automatico della action cam dopo un determinato periodo di tempo possiamo modificare la lingua dei vari sottomenu possiamo modificare la modalità del video della televisione la quale possiamo collegare la cam tramite il cavetto che vi ho fatto vedere qui il micro HDMI quindi NTSC oppure la modalità PAL ora sono uscito torniamo indietro eccolo qua possiamo ancora abilitare o meno il TV out nel caso appunto in cui avessimo collegato la cam tramite cavo micro HDMI possiamo modificare la frequenza del display su 50 Hz o 60 Hz in base alla frequenza del nostro impianto di corrente elettrica in modo da non avere nel caso in cui avessimo delle lampadine accese uno sforfallio dello schermo possiamo formatare la micro SD ripristinare le impostazioni predefinite e vedere la versione del firmware installata vi segnalo che questa versione del firmware non ha tra le caratteristiche incluse la possibilità di effettuare un loop sostanzialmente infinito di fotografie caratteristica che viene utile nel caso in cui si vogliano effettuare dei timelapse particolarmente lunghi con altre action cam possiamo impostare appunto un ciclo di fotografie scattate ognuna ogni tot secondi sinché non fermiamo noi la fotocamera questa ZBlades non ha ancora la possibilità di eseguire appunto un loop sostanzialmente infinito di fotografie ho chiesto direttamente al produttore mi hanno detto che cercheranno di inserire questa funzionalità con i prossimi aggiornamenti del firmware tra le caratteristiche più interessanti appunto di questa cam abbiamo il wifi vi faccio vedere allora come funziona andiamo sul menu clicchiamo ok sul wifi in questo caso il wifi risulta attivato prendiamo il nostro telefono apriamo l'app di ZBlades come vedete in questo momento ci dice non connesso poiché non abbiamo ancora attivato sul nostro smartphone il wifi e non ci siamo ancora collegati alla cam attiviamo il wifi ok in questo momento siamo riusciti a connetterci come vedete il nostro wifi dal telefono segnala che siamo connessi alla ZBlades cam e anche la ZBlades dice wifi connected e ci dà anche il mac address del dispositivo se utilizziamo però l'applicazione della ZBlades è possibile che questa non funzioni perché? perché e questo è un difetto è un bug che va segnalato l'applicazione della ZBlades non funziona benissimo con la versione più aggiornata in Android in particolare questo è un Nexus 4 quindi monta Android 5.0.1 abbiamo potuto utilizzare la cam con altri telefoni e con le versioni più vecchie di Android l'applicazione funziona abbastanza bene nonostante sia disegnata in modo decisamente rudimentale insomma l'interfaccia grafica non è fatta benissimo sicuramente potrebbe essere curata meglio comunque giusto per farvi capire come funziona l'applicazione al posto di questo messaggio logicamente dovrebbe uscire quello che la telecamera riprende anche se l'intervallo di aggiornamento di quello che è il video mostrato dalla telecamera non è immediato se io per esempio muovo in questa maniera la telecamera il video trasmesso sullo smartphone ritarda di almeno 2-3 secondi ad arrivare come vi ho detto l'applicazione non è disegnata benissimo possiamo comunque sbucciare tra la modalità di registrazione video e la modalità foto possiamo aprire la galleria scegliendo appunto tra foto e video possiamo poi andare sulle impostazioni che in questo momento ci sono precluse perché l'applicazione non riconosce la cam che è collegata impostazioni che sostanzialmente ci permettono di decidere quella che è la risoluzione di registrazione video e la risoluzione delle fotografie l'applicazione non è fatta benissimo diciamo che è uno dei punti deboli di questa cam andrebbe migliorata in ogni caso ci sono molte altre alternative sul Play Store sebbene non a marchio The Blades che comunque dovrebbero essere compatibili bene vi abbiamo fatto vedere più o meno tutto quello che riguarda questa cam nel complesso stiamo parlando di una cam ottima il prezzo di listino proposto dal produttore è di circa 115 dollari la cam viene importata direttamente dalla Cina nel momento in cui dobbiate acquistare una action cam ex novo questa potrebbe essere sicuramente un'ottima scelta logicamente è bene conoscerne pregi e difetti diciamo che se dovete ordinarla direttamente dalla Cina forse non è la scelta migliore nel senso che siccome costa appunto circa 115 dollari gli shop cinesi la vendono intorno ai 90 euro non sarebbe il massimo comprarla perché in Italia comunque si trova una action cam abbastanza simile penso alla SJ4000 della Cumox venduta da Amazon che costano un centinaio di euro però vengono appunto spedite dall'Italia con garanzia e tutto quanto mentre questa verrebbe spedita dalla Cina è necessario attendere parecchio tempo e se siete anche sfortunati è necessario pagare le tasse della Dugana nel momento in cui invece riusciste a trovarla con spedizioni dall'Europa ad un prezzo inferiore ai 100 euro sarebbe una scelta davvero eccellente per via delle ottime caratteristiche offerte della qualità della registrazione e di tutti gli accessori e i vari plus rispetto ai concorrenti che sono inclusi nella confezione per questa video recensione è tutto nel caso in cui abbiate ulteriori dubbi e domande vi invito a porli all'interno dei commenti in fondo alla recensione oppure direttamente sul nostro forum grazie a tutti